Ciao ragazzi siamo al Mugello per le finali Ferrari edizione 2015 e siamo con Marc Genet che non è solo un pilota di Formula 1, un tester, un commentatore televisivo ma anche la responsabilità di essere il tutor dei clienti Ferrari Formula 1 e dei clienti che guidano nel programma XX e XXK. Qual è il significato di questo ulteriore lavoro Marc? Ferrari ha un progetto che siamo gli unici nel mondo di averlo dove la macchina più estrema, la Ferrari in questo caso, sia fatta una versione del circuito. Allora questi clienti che sono i clienti per noi sicuramente più importanti che hanno la collezione delle macchine Ferrari più belle, la F40, la F50, la Enzo, la Ferrari Adesso, abbiamo fatto queste macchine per loro, loro guidano macchine prestazionali nelle strade ma non hanno tanta esperienza in circuito e siamo lì, in questo caso il mio ruolo è cercare di sfruttare il potenziale di una macchina talmente estrema come la Kappa e con la Formula 1 simile, forse quei clienti lì vogliono sperimentare cosa sente un pilota di Formula 1 e noi gli diamo l'opportunità di guidare le stesse macchine che hanno guidato i campioni come Schumacher, Alonso o anche adesso Fettel, per cui lì cerco di mostrargli come si guida una Formula 1 un po' adattandola al livello di guida che ognuno avrà. Qual è il livello medio di guida dei tuoi piloti? Normalmente loro fisicamente si tengono bene perché devi stare bene per guidare una Formula 1, loro guidaranno a 10 secondi da un pilota di Formula 1 che non è male, qualcuno più vicino perché fa anche gare con GT, con il Challenge, qualcun altro più lontano perché non neanche vuole però quello che è vero è che tutti, tutti riescono a guidare la Formula 1. Grazie Marco.